Scadenza dei contratti nelle prossime ore, il Barletta Calcio si appresta a fare le sue valutazioni più importanti per la composizione dell'organico 23-24. Mario Di Miccoli e Luigi Pavarese attendono sabato per ufficializzare l'approdo di Ciro Ginestra sulla panchina biancorossa per poi dare là le principali operazioni di mercato che sono già nel mirino dei giorni scorsi. Le valutazioni però andranno fatte anche sulle possibili riconferme degli elementi che dal 1 luglio saranno comunque liberi di accordarsi con la concorrenza. È il caso su tutti di Loiodice e Petta, l'esterno barese cercato anche dal neopromosso San Marzano. Incontrerà l'Altamura per ascoltare la proposta economica dei Murgiani ma il Barletta resterebbe la priorità dopo il feeling con il Puttilli che si è creato durante la scorsa stagione il difensore siciliano. Invece è uno dei calciatori a cui si formulerà una proposta di rinnovo più imminente ma non è escluso un suo avvicinamento a casa sposando la causa del Trapani. In entrata si guarda gli under, il 2005 barlettano Giuseppe Venanzio dovrebbe arrivare dal Bari dopo un anno ad Altamura mentre sarebbe addirittura d'arrivo anche un altro giovane dal Lecce. Dovrebbe lasciare il biancorosso invece Marco Cafagna, il classe 2007 dopo aver esordito a Fasano nell'ultimo turno dello scorso campionato è destinato proprio al Bari. Tra i senior l'attenzione delle ultime ore si è concentrata su Domenico Santoro il centramanti dovrebbe lasciare Brindisi e sarebbe nuovamente corsa a due tra Barletta e Altamura. I Murgiani in questo momento avrebbero messo sul tavolo una maggiore disponibilità economica. Avvistati nella città della disfida intanto i primi procuratori a colloquio con Di Miccoli e Pavarese si tratta di Danilo De Giorgi e Dario Colapinto.